Cambiamo argomento e parliamo delle gelate che si sono verificate nei giorni scorsi, che hanno colpito duramente le coltivazioni pugliesi in diverse province della regione. La richiesta è quella di attivare immediatamente lo stato di calamità. Il servizio di Marilena Pastore. Il maltempo ancora una volta in Puglia ha prodotto i suoi dannosi effetti, tanto da attivare subito le procedure per la dichiarazione urgente di stato di calamità naturale. La gelata notturna di questi giorni ha colpito duramente le campagne con le produzioni in molti territori dimezzate, dalle albicocche alle pesche, dai vigneti agli ortaggi, con le ripercussioni più gravi sulle ciliegie nel barese, per cui sono andati in fumo tre fiori su quattro e interi campi di tulipani bruciati dal brusco abbassamento delle temperature fino a meno 5 gradi nel Foggiano. Il monitoraggio di Coldiretti Puglia fotografa gli effetti dell'ondata di freddo gelido che ha devastato i raccolti dalle province di Bari e Bat a Foggia fino all'agro di Brindisi. Si contano i danni a Conversano, a Gioia del Colle, sulle varietà precoce di ciliegia. Nella Bat, a Barletta e Canosa, sugli alberi da frutto come pesche, albicocchi e viti. In provincia di Foggia e Lucera, Biccari, Volturino, San Severo, Torre Maggiore, Foggia, Ortanova e Deliceto, il bilancio parla addirittura del 100% di danno per i vigneti a spagliera, del 50% sotto i tendoni e una perdita del 50% sui frutteti, oltre alla compromissione degli ortaggi e dei grani precoci. Medesimo scenario in provincia di Brindisi, dove i vigneti hanno subito uno straordinario shock termico e risultano bruciati dal gelo. Una situazione drammatica per molte imprese agricole che, per Coldiretti Puglia, hanno perso in una notte il lavoro di un intero anno. Dopo le alte temperature dei giorni scorsi, che hanno favorito il risveglio della vegetazione, le piante sono state sottoposte a un terribile shock termico, con effetti naturalmente sulle produzioni. Oltre a frutta e verdura, rischio le coltivazioni più precoci di grano, che potrebbero dover essere rieseminate ma fuori dal riposo invernale. Pertanto, più sensibili al gelo, ci sono anche la vite e l'ulivo.